Prosegue senza sosta l'attività della Guardia di Finanza di Pescara nell'ambito del piano d'azione Stop Fake a tutela del Made in Italy. Frode in commercio e vendita e riprodotti con segni immendaci, reati contestati in questo caso specifico ad esercenti cinesi che operavano tra Milano e Pescara. E proprio su questo asse le fiamme gialle di Pescara, in collaborazione con i colleghi del capoluogo Lombardo, hanno struncato la filiera, sequestrando oltre mille cinture spacciate per vera pelle, per un valore complessivo di oltre 10.000 euro. A insospettire gli agenti, oltre al prezzo decisamente basso, le indicazioni stampate sull'etichetta che riportavano diciture come febbia invece di fibbia e vera pelle invece di vera pelle. I commercianti cinesi operanti a Pescara, Milano, Trezzano, Sul Naviglio e Cusago, già peraltro con precedenti penali, sono stati denunciati dall'autorità giudiziaria. Grazie a tutti.